salve a tutti io sono planet gaming siamo qui in un altro vlog come avevo detto nella pagina facebook il mio canale sarà momentaneamente chiuso per i miei motivi personali insomma un po perché non riesco a fare un po di visibilità in più e mo perché la voglia di portare gameplay è poco insomma e dire al mio canale resterà momentaneamente chiuso non vi preoccupate verso metà febbraio forse tornerò a portare altri che le commentate beh forse non lo so no forse è tutto quello che dovevo dire volevo dire in questo vlog quindi magari ci sentiamo verso febbraio verso con le nuove gameplay quindi vi saluto e alla prossima